Grazie al nostro appuntamento con Sportello Pensioni, la trasmissione dei pensionati CISL del Piemonte. In studio con me c'è Giorgio Melelli, il nostro esperto di previdenza, pronto a rispondere alle vostre telefonate. Vi ricordo il numero 011 95 75 798. Iniziamo però la puntata di stasera collegandoci con il nostro ospite che è Gianni Baratta, segretario regionale della CIS Piemonte con delega al mercato del lavoro. Eccolo qua, buonasera. E' stato con noi quando si trattava di parlare del decreto Cura Italia, adesso gli abbiamo chiesto di intervenire per parlarci un po' del decreto rilancio. Innanzitutto, qual è il giudizio del sindacato della CISL rispetto a questo decreto? Buongiorno a tutti, passiamo dal decreto Cura Italia a questo decreto rilancio. Sicuramente ha avuto una gestazione un po' più lunga, nel senso che se i telespettatori ricorderanno si era cominciato a parlare di decreto aprile e poi man mano è andato avanti nel tempo ed è stato poi approvato il 18 di maggio. Questo, fare un giudizio complessivo su un testo di oltre 300 pagine con più di 200 articoli è un po' complicato. Diciamo che abbiamo di fronte un contesto che è nato a cavallo, dalle situazioni legate all'emergenza e la necessità di fare dei provvedimenti che rilancino un po' la ripresa del paese dopo questa pandemia. Il giudizio che dà la CISL rispetto al sindacato è un giudizio su cose buone e su cose che mancano. Nel senso che il primo aspetto che ci preoccupa, ma non si poteva fare diversamente, è il fatto che ci sono 55 miliardi, che sono come avere due finanziarie. Peccato che sono due finanziarie in cui non ci sono ammettrate ma siamo in uscita. Quindi questo per un paese che era già indebitato è sicuramente una situazione da tenere sotto controllo. Ripeto, abbiamo fatto uno sforzo e il paese è stato facendo uno sforzo in male. Per questo motivo è importantissimo che domani la Commissione europea sia una risposta importante alle ricchezze dei paesi come l'Italia, Francia e Germania che metta un po' in un arco di paesi che non si sono resi conto di questa difficoltà. Ma qua non esce nessuno vincitore se non si fa uno sforzo complessivo. Tutti insieme, certo. Nei temi che ci sono del decreto rilancio io credo che siano importanti il fatto che ci sia l'aspetto su potenziare la sanità e far ripartire imprese in sicurezza. Questo è fondamentale perché come il decreto Pura Italia ha fermato quelle attività politiche quando il lavoro non era scoperto adesso bisogna ripartire ma bisogna ripartire in sicurezza. Certo, quindi fondamentale. Ecco, invece che cos'è che manca ancora? Ecco, diciamo che proprio perché c'è una situazione a cavallo tra i due aspetti, cioè l'emergenza e la ripartenza, ci sono alcuni impioni, diciamo, positivi. Allora, che però avrebbero appunto sviluppato, tenendo il presente che questo decreto ha bisogno, se non più male, di 98 interiori decreti attuali. Cose che sono in prima anima ma vanno maggiormente sviluppate, sono specialmente queste. Allora, la prima, questa epidemia ha dimostrato che abbiamo bisogno di un grande livello di innovazione tecnologica. Certo. C'è un punto importante che è il fondo delle competenze, cioè il fatto che aziende e lavoratori possono mettersi d'accordo e fare attraverso il finanziamento, un momento di formazione proprio per fare questo gap che c'è dal punto di vista digitale, che è molto importante sia per le aziende, ma a maggior ragione è importante anche per le pubbliche amministrazioni. Cioè uno dei temi che si sta discutendo in questi giorni è questa questione sulla burocrazia. Allora, io non mi piaccio neanche facci di slogan. Allora, la burocrazia è soprattutto l'importanza di assumere non in passato le proprie responsabilità e quindi non scaricare le difficoltà, non nascondersi dietro a vivere burocrati, ma neanche avere un sistema moderno di controllo, perché la burocrazia non ha il controllo, e che c'è il progare, la burocrazia non ha il controllo di legalità, perché troppo e volte il rischio è che sulla burocrazia si ragioni sulla questione di ambientare i controlli. Terzo punto, il sistema molto è collegato all'infrastruttura. C'è una cosa che ancora manca, è che le tante opere importanti, finanziarie, e che in qualche modo sono ferme. Non si riesce a fare ripartire, al di là dei problemi, ma in questo decreto manca un po' questo aspetto anche della riparta. Ecco, giusto, giusta osservazione. Abbiamo detto che si tratta di un provvedimento molto vasto, tantissimi articoli, quasi 300, e che abbraccia quattro filoni principali, che sono le aziende, gli enti locali, la sanità e le famiglie. La settimana scorsa con Melelli abbiamo provato già a dare qualche indicazione proprio sui provvedimenti che riguardano le famiglie, mentre invece con Barratta vorremmo cercare di concentrarci su quello che riguarda i lavoratori. E quindi partiamo dalla cassa integrazione. Sì, allora, guardavo proprio oggi gli dati che il Vizio ci sta mandando sia a livello nazionale sia a livello penitenese, siamo di fronte a numeri di cassa integrazione che sono 5 o 5 secondi quelli che sono avvenuti negli anni più difficili della crimine. Abbiamo un blocco dell'attività produttiva molto forte, il tema degli amortizzatori sono stati viene coniugati in questo modo. Ci sono ulteriori nuove settimane di cassa integrazione, sia sulla cassa integrazione ordinaria, sia sulla cassa integrazione eroga, sia sul fondo di integrazione straordinaria. Queste nuove settimane sono articolate per un problema di capienza finanziaria con un meccanismo che vede sulle settimane che si possono realizzare da fine al 31 di agosto e altre 4 che possono essere utilizzate nell'autunno. questo è un punto che abbiamo un bacio che ha con il governo e che ci siano anche possibilità di allargarlo perché questo numero di cassa integrazione rischia di non coprire tutte le attività produttive difficoltà particolari che hanno ancora difficoltà di aprire tutto 5 minuti fa si è chiamato un bagno turco un estetico che ha un dipendente di cui da parte si può realizzare con gli aspetti estetici ma per esempio il bagno che si fa che vanno avanti non si può scoprire questo tema per ragionamento ci sono diciamo dei licenziamenti al 17 di agosto è un punto che va a scontare è importante per aiutare la transizione dei bambini che stanno ripartendo e poi il tema seguito la puntata scorsa ha già illustrato dei vari concursi quindi sono importanti anche proprio nel di in Italia quelle categorie autonome che sono state scopite dalla crisi valentate finalmente rientrano colfe e badanti sono state dimenticate colfe e badanti certo il presidente provvedimento è una situazione di grande importanza e c'è poi appunto il blocco di licenziamenti e le situazioni legate al reddito di emergenza per questa forma interiore per le famiglie che hanno determinate caratteristiche di isei di condizioni che è un po' sulla faccia riga del reddito di cittadinanza che permette un interiore incremento di un salario per le situazioni di difficoltà con la regione Piemonte ne parleremo dopo c'è un aggiornamento sul fondo dentro il mondo di Piemonte sarebbe importante che perciò individuare quali sono le categorie che sono rimaste fuori da questa situazione io penso in maniera particolare a tutto il mondo dei tirocini che era numeroso in Piemonte che è stato bloccato e che ha delle difficoltà esatto noi avevamo ricevuto in proposito anche una telefonata ricordo da una signora che aveva il figlio che aveva interrotto il tirocigno e per queste persone ovviamente non c'erano misure di copertura ecco riprenderei ancora un attimo invece la questione che riguarda i braccianti agricoli che è un'altra novità contenuta in questo decreto rilancio molto importante anche nella nostra regione perché sappiamo il settore dell'agricoltura quanto abbia bisogno di immigrati da impiegare proprio in queste attività Sì questo è un tema che è stato il tema che forse ha maggiormente rallentato l'emanazione del decreto allora io credo che bisogna sempre avere cognizioni di che cosa stiamo parlando non si tratta di una regolamentazione selvaggia di una come viene descritta da alcune forze politiche siamo di fronte alla situazione in cui le eccellenze più corpesti penso a le vigne delle larghe o soprattutto il mondo dell'agricoltura il mondo della panazza ricordiamo ma anche è rimasto fuori tutto il mondo del settore del settore dell'edilizia ha bisogno appunto di forza lavoro di questo che fa riferimento è indubbio che questi tipi di lavoro non sono prediletti dagli italiani c'è una situazione credo importante di rendere regolare le persone che hanno trovato un lavoro che vogliono inserirsi che vogliono entrare a pieno titolo nel nostro paese e quindi essere parte di questa ripresa produttiva credo che con la normativa che è stata fatta che è un primo passo siamo nelle condizioni di ridare dignità a tanti lavoratori che in questo momento invece sono sfruttati proprio perché sono irregolari bisogna invertire la situazione noi facciamo emergere i dati positivi facciamo regolarizzare le persone combattiamo la criminalità e combattiamo il lavoro l'erro ecco mi sembra la chiave di lettura più giusta sì certo prego mi sono dimenticato di dire prima un aspetto che va verificato e però è importante riguardo diciamo la parte green del decreto di lancio cioè ci sono una serie di indicazioni riguardo la mobilità sostenibile quindi perché il trasporto sarà uno dei temi importanti che dovremmo affrontare e soprattutto c'è questa questione con l'eco bonus cioè sull'incentivare le rispettivazioni il rifacimento con un principio di recupero energetico che dovrebbe dare impulso alla nostra economia ecco sì speriamo appunto che anche queste misure vadano a incentivare da un lato l'economia e dall'altro appunto la tutela dell'ambiente che non dobbiamo mettere da parte era uno dei temi più sentiti proprio anche allo scoppiare dell'epidemia ecco allora veniamo invece alla situazione del Piemonte è in corso la discussione proprio su questo disegno di legge che è stato chiamato Riparti Piemonte doveva anche questo essere approvato a metà maggio ma i tempi sono andati avanti che cosa ci dobbiamo aspettare? Allora il Riparti Piemonte di fatto è diciamo il figlio di quello che il Piemonte aveva preparato il piano della competitività cioè prima che copiasse questa pandemia in relazione un po' agli adulti dalla giunta Cirio era stato preparato dove aveva già visionato un documento molto cortoso che aveva proprio l'obiettivo di ridare le aziende del Piemonte rilanciare l'innovazione riprendere un po' i temi di cui si parlava prima ora alla luce di quello che è successo anche la giunta ha dovuto in qualche modo rivedere questa portazione e quindi il Riparti Piemonte finito appunto di questa situazione che ci sono dentro un po' di soldi che la regione ha recuperato dai vari avanzi di bilancio ricordiamoci che la regione Piemonte è una regione che esce dalla situazione di sofferenza per quanto riguarda gli aspetti sanitari e quindi di conseguenza ha delle risorse che sono molto limitate cioè sono una situazione di monitoraggio della spesa però recuperando queste risorse rimodulando i fondi europei cioè impegnando le ultime parti legate all'ultimo settentrato 14-21 dei fondi europei ha ricostruito questa proposta che è una proposta fatta sostanzialmente diciamo di una serie di bonus che sono già operativi perché sono stati sconciati dal provvedimento del decreto del 95 per il ritornio di Piemonte che sono stati una legge a parte e poi i popoli dai 200 euro più i 500 che vengono dati alle attività sulla base appunto di una serie di ripartizioni che ha fatto che ha fatto la giunta che sono diciamo aiuti dell'immediato aiuti appunto aperturo che vengono che vengono fatte poi dentro questo ripartire che invece c'è in discussione in questi giorni che è stata già una discussione politica perché poi è stato presentato annunciato il 4 di maggio adesso il giro di 20 giorni dovrebbe avere una serie di promedimenti sui quali noi abbiamo fatto una serie di osservazioni che sono principalmente questi sono una serie di promedimenti che riguardano il rilancio del turismo l'attenzione alla montagna e poi c'è tutta una parte consistente che riguarda la questione legata alle cose che siamo prima sull'edilizia cioè su un concetto che dice dobbiamo incrementare i lavori edili però con un'attenzione secondo me esagerata alla semplificazione che rischia di diventare anche un pochino uno sfrimento dei piani regolatori un tentativo forte di poter costruire modificare i centri storici ci sono soprattutto due aspetti problematici che riguardano il fatto che il documento di regolarità contributiva in edilizia è un elemento importante che deve restare valido proprio per evitare le infiltrazioni mafiose verrebbe prorogato di due anni quindi facendo una situazione in cui le aziende che sono a foto che hanno regolarità contributiva in qualche modo vedrebbero questo aspetto anche a favore di chi magari proprio non è trasparente non è e l'altro aspetto che lavoro con tutto il cuore sia corretto in fase di discusione riguardo la certificazione antimafia in cui la giunta ha fatto una precisazione in cui i controlli si fanno a posteriori cioè nel momento in cui viene poi erogato il contributo e anche qua è un tentativo molto basdestro di come dire di scuro in termini negativi poi c'è un altro aspetto che riguarda uno dei temi che spesso sento nelle prasmissioni le discussioni cioè il fatto che dobbiamo privilegiare le aziende piemontesi per il riconoscimento dei lavori allora al di là che sono alcuni importi di usare le normative europee di fare una gara pubblica già lì può avere qualche punto il concetto stesso che sta alla base che il che vuote una una regione che esporta che comunque ha buone tecnologie se tu crei un critico che molte lavorano solo impiegativi è come se tu cercassi di lavorare di via di domani lavorano a fare o di questo genere questa situazione francamente sembra una visione estremamente io è tanto vero che le aziende che hanno reclamato quindi sono le aziende che hanno esportato ma non di buon conto perché bisogna essere positivi l'importante è che io credo andare in approvazione questa settimana deve essere poi accompagnato da un recupero un po' come sul decreto rilancio da un recupero di quegli aspetti della competitività che in qualche modo sono stati specificati per problemi per problemi di bilancio ecco bene grazie sicuramente una sintesi ovviamente semplificata perché qui il tempo a nostra disposizione è ridotto però appena sarà poi licenziato questo provvedimento avremo modo di approfondire noi ringraziamo tantissimo Gianni Baratta per essere stato con noi per averci dato la lettura di questi due provvedimenti e speriamo poi di poterlo avere in studio prossimamente grazie mille buona serata ecco fra poco lasceremo spazio alle telefonate però prima darei la parola a Melelli per due importanti avvertimenti uno riguarda il pagamento delle pensioni alla posta oggi perché questo è un ulteriore mese di anticipo per il pagamento delle pensioni onde evitare assembramenti queste disposizioni sono state date proprio per evitare i grossi assembramenti che si formino delle code allora stamattina hanno pagato le pensioni che i cognomi incominciavano dall'A alla B domani mercoledì dalla C alla D giovedì 28 dalla E alla K venerdì 29 maggio dalla L alla O sabato mattina 30 maggio dalla P alla R e il primo giugno che è lunedì dalla S alla Z per cui chi si ritrova in questi cognomi inizio di cognome sappia che può andare solo quel giorno lì seguendo il calendario ripeto però l'ho detto sempre chi ha il conto corrente alla posta non si affanni ad andare assieme a tutti gli altri perché può andare in qualunque momento a riscuotere i suoi quattrini perché la pensione viene versata sul conto corrente per cui se uno ne ha bisogno ovviamente deve andare ma se uno non ha non ha impellente bisogno di quattrini può lasciargli alla posta e andare a ritirarli la settimana prossima o qualche settimana dopo ok nel volantino che ci proponeva la regia ci viene anche ricordato che gli over 75 possono delegare i carabinieri chiamando il numero verde che c'è lì 800 556 670 i carabinieri vanno a casa del pensionato che li ha contattati il pensionato gli dà il libretto della pensione la delega e tutto quanto eccetera il carabiniere va alla posta prende i soldi preleva i soldi e li riporta a casa al pensionato per cui è una grossa opera meritevole che l'arma dei carabinieri ha voluto mettere in questa situazione di pandemia in aiuto ai pensionati più anziani tant'è che si parla di ultra 75 anni per cui chi davvero fosse solo o qualche familiare non può può telefonare al numero verde certo e i carabinieri si rivolgeranno a loro per fare tutta l'operazione è una buona cosa da usare per i miei amici 75 anni e oltre da usare sì perché è una bella cosa è meglio essere prudenti e usare cautela ancora in questo periodo ecco poi abbiamo un'altra novità che riguarda i modelli red io tutte le volte che iniziamo la trasmissione sui modelli red c'è qualche cosa di nuovo qualcosa da dire abbiamo detto che dopo il 18 maggio chi aveva il red doveva rivolgersi al patronato perché avrebbe dovuto fare la domanda di ricostituzione perché era scaduto il tempo invece il ministero e l'inps hanno prolungato il periodo nel quale si può spedire senza fare domande bla 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 tramite il CAF il modello red all'8 giugno per cui chi secondo me non c'è più nessuno chi avesse ancora la lettera a casa non ha fatto il red entro il 18 maggio non ha fatto la ricostituzione dopo ha ancora tempo fino all'8 giugno per rivolgersi al CAF e il CAF spedirà i redditi all'inps con il modello red così si evita di perdere la 14esima o nei casi più gravi di vedersi bloccare la pensione benissimo importante anche questa precisazione ritornando all'argomento di cui parlavamo prima con Baratta abbiamo qualche numero sui pagamenti che sono stati fatti soprattutto per quando riguarda i bonus nel senso che io capisco che poi come diceva anche lui ognuno dice la sua però a me sembra che i pagamenti siano è vero quando uno deve pagare più di 3 milioni 3 milioni 800 mila quote non le paga in un giorno ma c'è un minimo di dilazionamento per cui ne hanno già pagati un milione e otto mentre i rimanenti due milioni sono stati versati ieri poi abbiamo anche la situazione di chi non chiedeva il pagamento con la debito sul conto corrente ma il pagamento diretto alla posta e qui la circolare ci dice che oggi hanno pagato 74 mila quote ai lavoratori domani mercoledì 27 altri 19 mila lavoratori e giovedì 28 altri 97 mila lavoratori concludendo la quota che ha chiesto il pagamento diretto prendere i soldi direttamente ecco quindi ci auguriamo che nel giro della settimana tutti possano avere volevo fare una domanda baratta io continuo a sentire che la casa di integrazione non arriva mi sarebbe piaciuto chiedere ma lo glielo il telefono poi semmai ve lo dico martedì vediamo un attimo se è colpa del governo che non pare i soldi se è colpa dell'IMS che non riesce a sciogliere le pratiche se è colpa delle banche che fanno le fetenti cioè di chi è la responsabilità vediamo se riusciamo a recuperare allora questa domanda noi adesso ci interrompiamo per dare spazio alla pubblicità ma rimanete con noi perché ritorniamo fra pochissimo eccoci siamo ritornati abbiamo anche ristabilito il contatto telefonico col segretario baratta così Melelli può rivolgergli direttamente la sua domanda pronto? pronto ciao Giorgio ciao Gianni senti una cosa in questi giorni ma non in questi giorni da qualche settimana i mezzi di informazione continuano a dire la cassa integrazione non arriva abbiamo più del 50% delle persone che non prendono soldi da un sacco di tempo e io non solo io io me lo chiedo ma me l'hanno chiesto anche gli amici che vengono in ufficio a trovarci di chi è la responsabilità lo Stato che non ha messo i soldi l'Inps che non riesce a sciogliere le pratiche gli uffici pagatori che sono lenti nell'accredito di chi è la responsabilità se famiglie intere non hanno ancora ricevuto una lira di cassa integrazione allora non c'è una sola responsabilità in questo caso tenendo presente che esiste allora esiste una varietà di di strumenti di strumenti allora diciamo che per quanto riguarda la cassa inderoga che è la cassa a cui si sono rivolte la stragrande maggioranza delle piccole aziende quindi delle aziende fino a 5 dipendenti aziende molto piccoli la difficoltà è stata che questa cassa è stata gestita prima dalla regione e poi passata all'Inps sulla situazione della regione in questi mesi abbiamo si è riusciti a mettere a regime la macchina ma la macchina ci ha messo un po' a partire e quindi di conseguenza adesso siamo arrivati che sulle 50.000 domande 54.000 domande di cassa integrazione in deroga che sono arrivate alla regione Piemonte circa 50.000 sono già state inviate autorizzate all'Inps e l'Inps deve pagarle però teniamo presente un dato da quando c'è l'autorizzazione le aziende e i consulenti poi devono caricare sul sito dell'Inps gli importi precisi cioè dire Gianni Baratta ha fatto 9 settimane di cassa integrazione aveva diritto a questo importo e questa procedura che è una procedura che riguardano gli uffici paghe e i consulenti in qualche modo porta via tempo e magari un consulente che ha tante piccole aziende ci mette un po' a fare questo tipo di operazione fatta questo tipo di operazione la direttrice dell'Inps ci diceva che in 7-8 giorni poi arrivano i soldi legati al lavoratore tant'è vero che la nuova normativa prevede che partirà però tra 30 giorni purtroppo per meccanismi tecnici prevede che proprio sulla deroga 15 giorni dopo la domanda di cassa integrazione l'Inps dovrà mandare il 40% di acconto ai lavoratori proprio per evitare questa situazione il problema è che secondo il mio modesto parere nel momento in cui la macchina della deroga in qualche modo era andata a regime adesso si ricomincia e ci sono appunto questo buco di 30 giorni che deve permettere all'Inps di modificare i programmi informatici perché lei prima non era pronta cioè prima passava alla regione e andava diretti il dato positivo che ci diceva la dottoressa regionale oggi era che in Piemonte almeno l'80% delle aziende che hanno fatto ordinaria hanno anticipato e questo è stato un buon vantaggio però le cose secondo me sono legate soprattutto alle piccole aziende che hanno questa difficoltà della deroga grazie Gianni grazie mille anche per questa informazione aggiuntiva lo salutiamo nuovamente e alla prossima occasione grazie altrettanto ecco la settimana scorsa avevamo in collegamento come ospite il presidente dell'ISCOS per chiedere a chi volesse di devolvere il proprio 5 per 1000 durante la dichiarazione dei redditi a favore di questa associazione di cooperazione internazionale che fa capo alla CISL questa settimana abbiamo realizzato una piccola intervista a Francesca Boschetto che è la presidentessa dell'Anteas del Piemonte anche lei ci ha raccontato un po' come è andata avanti l'attività di volontariato in questo periodo di epidemia e come si può quest'anno devolvere il 5 per 1000 all'associazione Anteas perché c'è una novità non più i codici fiscali per ogni Anteas territoriale ma un unico codice fiscale regionale sentiamola parliamo un po' dell'Anteas in questo brutto periodo purtroppo di coronavirus l'Antea non si è calmata completamente abbiamo cambiato modo di stare vicino alle persone telefonate per chiedere se avevano bisogno le tenevate di cortesia la gente specialmente gli anziani erano chiusi in casa quindi il fatto di sentire una voce amica vi ha tirato un po' su di morale abbiamo concordato in diversi posti nella regione chi con la protezione civile andava a prendere i medicinali e poi la protezione civile rimetteva davanti alla porta senza contagiare le persone anche qualche piccola spesa alimentare di cui abbiamo anche anticipato perché molte persone sono molto in difficoltà quindi con le donazioni che abbiamo avuto del 5 per 1000 negli altri anni abbiamo pagato queste piccole spese alimentari che andavano dalle 20 alle 30 euro per le persone che decisamente erano in difficoltà anche perché chi era bisognato ad andare a prendere la pensione alla posta aveva problemi a uscire quindi abbiamo conoscendo le persone abbiamo cercato di aiutarli in questo modo poi c'era il problema anche dell'acqua quindi lasciare l'acqua davanti alla porta e molto sono state le mate di compagnia poi eravamo precettati per il sabato e la domenica e tutti i giorni festivi compreso aprile che c'è stato Pasqua c'è stato il 25 aprile primo maggio e lì il discorso era per le medicine dove è stato fatto invece questi accompagnamenti abbiamo dovuto sanificare le macchine perché logicamente anche i volontari non sono più di primo pelo e quindi dovevano viaggiare con mascherine e sanificare le macchine questo era molto molto importante abbiamo qualche comune adatto alle mascherine qualche comune no quindi abbiamo cercato di dare mascherine dove non c'erano la difficoltà era anche sui guanti che non abbiamo tanto trovato da distribuire poi ci siamo dovuti organizzare anche noi con videochiamate ma capite che i videochiamati vanno bene per i presidenti e per le persone che sono un po' più giovani per gli anziani le videochiamate proprio non esistono perché il telefonino ce l'hanno tutti ma per rispondere e basta e da adesso che c'è un pochettino più di libertà incominciamo di nuovo magari a fare le loro le prenotazioni perché le varie prenotazioni che avevano sono saltate tutte quindi da questa settimana abbiamo iniziato di nuovo a chiedere le prenotazioni che erano saltate eccetera eccetera e incominciando pian piano a fare questo tipo di ragionamento ci stiamo avviando e vedremo in futuro cosa riusciamo a fare diversamente poi ci sono i problemi di tutti gli spazi anziani che sono chiusi quindi anche chi è a casa non può più andare cerchiamo di attrezzarsi più che altro con la compagnia e sentendo di cosa hanno bisogno anche solo di parole quindi la vostra donazione del 5 per 1000 è importantissima per aiutare queste persone che sono molto in difficoltà non solo gli anziani ecco benissimo abbiamo sentito allora dalle parole della presidentessa Boschetto che l'antiast non si è fermata ovviamente con difficoltà perché anche i volontari in alcuni casi hanno un'età piuttosto avanzata e ovviamente andavano garantite tutte le misure di sicurezza però soprattutto con queste telefonate di compagnia si è cercato di mantenere il rapporto e poi ovviamente la consiglia dei generi alimentari dei medicinali e ora appunto con il riavvio si spera di poter stare ancora più vicini avete visto allora il codice fiscale unico regionale di quest'anno vediamo se poi la regia ce lo può ancora proporre esatto eccolo qua quindi chi vuole può devolvere il proprio 5 per 1000 quando va a fare la dichiarazione dei redditi ad Anteas adesso abbiamo in linea una telefonata quindi sentiamo il nostro telespettatore pronto? pronto buonasera buonasera da dove ci chiama? sono Luigia e chiamo da Torino buonasera ci dica allora io ho visto la prima parte e adesso sto vedendo la seconda parte no? sì e mi sono fatta un po' un'idea della Gisle che si parlava di lavoro di casa integrazione di dare una mano anche la signora che ha parlato adesso il 5 per 1000 è molto bello per dare una mano ai poveri a chi ha bisogno eccetera eccetera però io ho tre domande ma ho un dubbio però le faccio veloce per dare la possibilità anche agli altri grazie di parlare si è detto nell'agricoltura che si ha bisogno degli extracomunitari per l'agricoltura io una parte sono d'accordo e in una parte no preferisco dare una mano a quei extracomunitari che sono già in Italia e va bene per difenderli per il caporalato eccetera eccetera però nessuno parla che non solo loro vengono sfruttati ma anche noi italiani veniamo sottopagati e sfruttati ma di noi italiani non se ne parla mai si parla solo di extracomunitari io non sono razzista sono d'accordo che anche loro hanno diritto di venire qui e lavorare e dare da mangiare alle loro famiglie chi già qui vive da tanti anni ma io non tollero che il governo vuole 600.000 clandestini che non scappano da nessuna guerra che vengono qui a fare cosa cioè le nostre risorse i nostri risparmi i nostri contributi che non riusciamo a dare una mano agli stessi italiani che veniamo sottopagati faccio un esempio io vado a lavorare a 6 euro all'ora a fare le polizie un extra un clandestino prende 42 euro al giorno le sembra giusto? grazie signora la ringraziamo abbiamo capito però io volevo dire un'altra cosa e poi chiudo il taccio perché do la possibilità agli altri la CISL e i sindaci sanno i sindaci per esempio sanno dove le famiglie hanno difficoltà e come possono aiutarle e come dare il lavoro perché pensano sempre ai clandestini e mai agli italiani? la ringraziamo signora grazie buonasera intanto sentiamo la replica di Mele prima risposta il governo ha messo ha dato ai comuni 400 milioni di euro da dare alle famiglie bisognose i bonus spesa i bonus spesa perché giustamente come dice lei chi meglio del comune conosce le famiglie e le esigenze che le famiglie hanno per cui io credo che magari i 400 milioni non è tantissimo ma come posso dire la strada che il governo e le regioni hanno e il comune hanno percorso è questa adesso poi c'è il reddito d'emergenza però il reddito d'emergenza è già un problema che deve avere l'ISEE bla 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 qui invece è proprio il comune che andava a individuare chi era famiglia precaria signora per la verità ieri sera l'altra sera in televisione il ministro Lamorgese che è il ministro degli interni ha parlato di 200 mila emigranti e non 600 mila e poi non si tratta di clandestini ma di persone che come dicevamo prima hanno comunque già un rapporto scaduto hanno il permesso di un soggiorno scaduto e che però hanno già dei contatti per lavorare che devono rinnovare per cui attenzione la nostra stampa che è stampa di parte molto spesso sì ognuno dice la sua certo ognuno tira la qua proprio mulino se lei legge i giornali di destra dicono una cosa le leggi di sinistra dicono un'altra allora bisogna sempre stare in mezzo io credo che qualcuno ha anche detto perché non mandiamo in agricoltura quei signori che prendono il reddito di cittadinanza perché non hanno la professionalità per andare in agricoltura perché non tutti sono adatti ad andare in agricoltura poi c'è anche da dire che in questo periodo sono state fatte molte chiamate anche da parte di aziende agricole e associazioni tra l'altro l'altro giorno leggevo sulla stampa nazionale che i ragazzi che dovrebbero mantenere i contatti tra chi ha il reddito di cittadinanza e le aziende lavorano in casa perché hanno lo smart working no certo perché con il coronavirus anche per loro era un problema per cui è una situazione e in una situazione precaria per evitare di fare danni secondo me è bene regolarizzarli hanno detto li regolarizziamo per sei mesi vediamo come va l'ambaradan e poi decidiamo certo anche perché appunto da combattere assolutamente il sfruttamento e il caporalato abbiamo un'altra telefonata in linea sentiamo pronto pronto buonasera buonasera sì prego signora ci dica io devo fare una domanda al signore sì buonasera buonasera io ho 67 anni compiuti sì non ho nessuna pensione mio marito è pensionato e prende intorno ai mille mille due non arriva l'ordine netti lei cosa vuol sapere se ha diritto a qualcosa sì no ma ma perché noi io non noi non superiamo i 16 mila no 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 per avere diritto all'assegno ah no lei parla del reddito di emergenza no io parlavo della mia pensione se ha fatto qualcosa a me o no no lei no se non ha contributi vent'anni o quindici anni a 92 no lei potrebbe vedere l'opportunità di prendere l'assegno sociale ma avendo no ma avendo il marito una pensione superiore a 11.600 euro annui lordi lei non può purtroppo avere l'assegno sociale capito allora il problema è avete fatto l'isee sì tanti anni fa ma non dovete dovete rifarlo perché c'è la possibilità di prendere il reddito di emergenza capito che non bisogna avere 10.000 euro di e però suo marito supera anche quello no 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 signora non ha diritto a niente no niente ci dispiace abbia pazienza mi spiace dire queste cose qui ma le norme sono queste va bene grazie la ringraziamo signora buonasera abbiamo ancora un telespettatore in linea pronto pronto no allora c'è qualche problema con la telefonata se parlate con Nino Nino è presente sì buonasera ci dica buonasera io faccio tutta un'altra domanda sentiamo ecco e prego ci faccia la domanda io ho avuto un problema col CAF sì sono un pensionato sì nel 2016 mi hanno sbagliato la denuncia dei redditi sì ecco non so se è di vostra competenza no se no io so risponderle possiamo darle un'indicazione prego ecco le spiego mi hanno sbagliato la cifra di 700 euro sì ecco il CAF sono andato a reclamare dovreste essere voi assicurati se sbagliate voi dovete pagare voi certo e invece no mi hanno detto sono andato con la bolletta che mi è arrivata sì se paga entro il mese noi le diamo un'assicurazione di 150 euro no dunque lei questi 700 euro doveva pagarli o no li ho versati tutti per cui l'oro l'assicurazione risponde solo per gli interessi legali ecco mi avevano promesso 150 euro sono passati 4 anni non ho ancora visto nulla fa bene a continuo a chiamare ma nessuno mi risponde deve andare di persona adesso la domanda che volevo farle come si fa a uscire dal CAF perché io in questi anni sto facendo tutto dai privati da geometra e pagare 19 euro mensili di tessera non mi interessa più perché tanto non sono tutelato deve fare una raccomandata all'Inps in cui dice di non voler più pagare il sindacato ecco perché il sindacato non mi serve mi ha solo fatto dei danni in questo caso non possiamo le chiedo scusa no no io allargo le braccia cosa non mi hanno preso in giro non posso dire nulla che poi un geometra mi costa 100 euro l'anno ah no certo io io di sindacati ne pago 200 fischia avrebbe no avrebbe convenienza se non andassi io l'unica cosa che le posso dire è lei fa una raccomandata all'Inps in cui dice il sottoscritto titolare di pensione numero chiede di non pagare più la quota del sindacato punto quindi devo fare una raccomandata all'Inps sì certo però ci dispiace molto che per un disservizio lei si si dissoci succede buonasera no partivo il servizio per quanto mio buonasera scusate buonasera vogliamo dire però che il sindacato non è soltanto fatto di questi servizi che purtroppo possono fallire perché le persone sbagliano io non voglio criticare i colleghi del CAF però se se il tantum era 150 euro ma il direttore li tira fuori il tasca sua eh no 4 anni lasciamo stare polemiche per polemiche non piace farle però il signore non ha torto no certo questo però danneggia l'immagine quando invece ci sono tante persone serie che fanno bene il loro lavoro sono corrette che rispondono anche della responsabilità facciamo tante migliaia di pratiche poi può succedere l'errore però l'errore si sana nel senso è che vabbè va bene abbiamo ancora una telefonata facciamo veloce perché manca poco tempo al termine pronto? pronto buonasera buonasera ci dica signora la signora Maria di Avigliana sì prego volevo solo un'informazione c'è il mio cognato che è stato malato di covid e la pensione volevo chiedere se poteva prendere la pensione di accompagnamento lui ha già il 75% di invalidità deve fare la domanda io grazie a Dio non sono stato toccato dal covid 19 non so che tipo di come posso dire strascichi lascia però io credo che il suo cognato cammina da solo no 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 veramente si è fatto ancora 45 giorni di ospedale e allora ieri una settimana fa un martedì scorso l'hanno mandato fuori dall'ospedale e adesso è di nuovo è di nuovo intubato signora la domanda la fa il medico curante per cui la domanda che ha fatto a me deve farla il medico curante perché se lui ritenesse che vale la pena chiedere l'accompagnamento deve redare il certificato medico spedirlo all'Inse dare una copia a voi e voi poi venite da noi che facciamo la domanda chi è il perno di tutta la vicenda è il medico condotto il medico di famiglia per cui deve chiedere a lui se vale la pena fare questa domanda si perché lui è già il 75% perché è un diabetico con tante patologie per cui magari che arrivi ad averla io rispetto al covid 19 purtroppo è tre mesi che c'è ne sapremo un po' di più tra qualche mese però vale la pena secondo me fare la domanda certo perché ancora lui è all'ospedale diciamo però io direi di fargliela fare signora grazie signora va bene buonasera grazie grazie per aver chiamato scusa volevo dire una cosa sul sul 730 sì prego chi non fa il 730 perché ha solo il cud diciamo magari solo la casa d'abitazione può pagare dare il contributo 5 per mille perché basta che veniate da noi vi stampiamo il cud in fondo al cud c'è proprio il modello con le tre possibilità 8 per mille 5 per mille e anche per i partiti per chi volesse per cui si stampa quello e si scrive il codice che avete visto prima il codice fiscale e voi date il contributo senza pagare una lira senza pagare una lira date il contributo l'8 per mille allo Stato alla Chiesa chi volete e il 5 per mille all'anteas che fa tutte quelle cose che il presidente di Torino ha detto cioè portare i medicinali fare compagnia portare la spesa tutte cose che in questo periodo sono state sono state estremamente positive e importanti assolutamente un contributo prezioso abbiamo detto che questo periodo ha risvegliato un po' anche il valore della solidarietà che parlavamo prima esatto ci stiamo volendo più bene di prima ecco forse perché possiamo fare questi gesti un po' diversi dal contatto fisico però è un bel modo di dimostrarselo su questo noi ci dobbiamo salutare perché il tempo a nostra disposizione è scaduto vi ringraziamo per averci seguito ringrazio Melelli per le sue risposte e vi ricordo che la settimana prossima non andremo in onda perché è il 2 giugno e quindi Sportello Pensioni tornerà martedì 9 giugno buona serata buona sera